Sì, arriviamo! Mamma, voglio stare vicino a papà. Sempre così, sempre così. Basta guardiamo! Questo! Anche secondo me questo va bene. E colore io penso che sia meglio quello rosso. Per il telefono! Scusa, un attimo. Sì, e anche oggi, lavoravo da sola. Hai visto? Tu che dici che sto sempre al telefono? Sono stata a solo 20 minuti. Chi era? Non lo so, uno che ha sbagliato numero. A cambiare suoneria? Questa, questa. Questa va benissimo. Questo sarà un backstage. Quindi Andonella sei riuscita a cambiare suoneria? Trovate impostazioni? Sì. Che stai facendo? Uno, due, tre. Scusa, un attimo. Ok. Pronto? E anche oggi, lavorerò da sola. E fai una cosa, dici, ah, sì, qualcosa così, capito? Ah, sì? Eh? Ciudia. Ah, sì, eh. Non lo so, vedi tu che... Ah, sì, eh. Vai. Sì, sono io. Sì. Sì, sono io. Sì, sono io.